Seba hai messo a terra il pallone decisivo, non solo quello, però quello è in particolar modo importante. Sì, sono contento di fare l'ultimo punto. Me lo aspettavo perché so che sempre Simo va il cielo a prendere la palla, quindi sono andato decisivo a fare il punto. Quanto importante è questa vittoria? Sofferta, ma comunque vittoria. È importantissima, siamo venuti a vincere. Poi magari possiamo parlare che si poteva chiudere un 3-1, ma niente, l'importante è che l'abbiamo vinto e adesso subito dobbiamo pensare al ritorno che sarà sicuramente una partita difficile. Cambiano i giocatori, ma Trento ha sempre una sua identità di gioco. Penso che sia questa la notizia migliore che si porta dalle ultime due partite, alludo anche a quella con Molfetta. Sì, certo. Nonostante i cambi, sicuramente noi abbiamo lavorato di squadra. Quelli che sono partiti da titolare ci hanno fatto il suo lavoro, ci hanno dato tutto. Quindi la squadra continua a lavorare bene. Max, un successo importantissimo. 3-2, poteva essere 3-1, ma va bene così, non era una partita semplice, lo si sapeva alla vigilia. Sì, questa è la Champions, ottavo di finale, provano a metterti tutti in difficoltà e l'Enic oggi ci è riuscito. Sì, forse non avessimo fatto quegli errori al quarto set, insomma forse avremmo potuto portarlo a casa. Però comunque una vittoria fuori casa ci dà un piccolissimo, ma comunque importante vantaggio. In un campo difficile siamo comunque contenti. Una vittoria anche per il morale? Sì, sì, perché è importante continuare la striscia di vittorie, soprattutto in gare così difficili, così importanti. Questo ti dà tanta fiducia per il futuro, soprattutto in questo periodo, ma come è stato un po' tutto l'anno così, in questo periodo in cui avremo tantissime partite molto ravvicinate. Ce n'è una subito domenica con Latina, per esempio? Sì, sarà un'altra partita difficilissima perché Latina in casa gioca una buona palla a volo, però noi dobbiamo assolutamente vincere perché dobbiamo innanzitutto mantenere il nostro terzo posto. E poi chissà, magari ci sono tanti sconti diretti, magari potremo anche recuperare qualcosina su Macerata e Modena. Senza Lanza e Djuric hai toccato a Tino Ornaut, diciamo, fare il leader di questa squadra. Oggi hai giocato una grande partita, di sostanza. È stata una partita difficile, sapevamo che loro giocano bene. A momenti non siamo riusciti a tenere la continuità del nostro gioco, però sono molto contento che siamo riusciti alla fine, nei momenti più importanti, girare la partita e comunque vincere. Adesso si va a Latina, non una trasferta a caso per te e per Simone? Sicuramente Latina è un campo emozionante, difficile, però cercheremo di riposarci quanto possiamo, preparare la partita è meglio e vincere anche a Latina.